L'opera più significativa della produzione di Fichte è il trattato dal titolo Fondamenti dell'intera dottrina della scienza. La prima edizione esce nel 1794 e a questa seguiranno le edizioni del 1798, 1801, 1804, 1810 e 1812. Citeremo in particolare quella del 1804 nella quale Fichte cambia il suo punto di vista in merito alla religione. Fichte parte da Kant e in particolare dal suo concetto di conoscenza. Kant aveva capovolto la dottrina atomistica dell'adeguatio rei et intellectus, cioè l'intelletto quando conosciamo si adegua, affermando che sono gli oggetti a ruotare attorno al soggetto e aveva identificato la suprema unità fondatrice della conoscenza con il centro mentale unificatore denominato io penso. Kant aveva sì dato importanza al soggetto, ma Kant rimane comunque un realista e non un idealista in quanto ammette l'esistenza di una realtà indipendente dall'individuo. E sostiene che della realtà stessa è possibile solo la conoscenza del fenomeno, cioè la realtà come appare ai nostri sensi, pur senza negare l'esistenza del noumeno. Ecco, un veloce chiarimento sulla terminologia, letteralmente noumeno significa la cosa in sé, ma nel pensiero di Kant il noumeno è una realtà inconoscibile e indescrivibile che risiede ancora nella mente umana. La cosa in sé, invece, è ciò a cui il noumeno si riferisce, è la realtà in quanto esterna alla mente del soggetto. Questo era Kant. Gli idealisti, in particolare Fichte, al contrario sostengono che l'individuo può conoscere tutta la realtà, in quanto è l'individuo stesso a crearla. A livello di conoscenza, quindi, il mondo materiale esiste solo in quanto noi lo conosciamo. Gli idealisti vogliono trasformare l'io penso kantiano da condizione soltanto formale a condizione sia formale sia materiale della realtà. Fichte cerca così un principio assolutamente primo e incondizionato dal quale l'intero sapere possa essere dedotto in forma sistematica. Tale principio, unificando i risultati delle tre critiche di Kant, renderà la filosofia un sapere assoluto e perfetto. Filosofia che potrà quindi spogliarsi del suo significato etimologico di amore per la sapienza, che appunto esprime più l'amore per la sapienza che il suo reale conseguimento, per divenire invece sapere assoluto, una scienza della scienza, o, con un'espressione che riprende da Reinhold, una dottrina della scienza. Altro veloce chiarimento, abbiamo fatto riferimento alle tre critiche di Kant, quindi ricordiamo che la critica della ragion pura si era occupata del campo della conoscenza, la critica della ragion pratica si era occupata del campo della morale, mentre la critica del giudizio aveva unito le due precedenti critiche, occupandosi del campo dei sentimenti. Trovare un'unificazione tra conoscenza, morale e sentimenti significa quindi che l'uomo è in grado di conoscere tutta la realtà. Altro veloce chiarimento per evitare confusione? Con il termine scienza si intende il sapere, cioè un complesso di conoscenze acquisite con lo studio. Il termine dottrina è sinonimo di scienza. Affermare quindi che la filosofia è una scienza della scienza, o dottrina della scienza, significa dire che la filosofia è l'insieme delle conoscenze che riguardano lo stesso sapere. Fichte individua questo principio primo e incondizionato nell'io. Per Kant, come abbiamo già accennato, l'io-penso è il centro unificatore della conoscenza, ma è solo la condizione formale della conoscenza. Esso non crea quindi la realtà e di conseguenza il mondo esiste indipendentemente dall'individuo. in Fichte, invece, l'io-penso si trasforma in io-assoluto, che oltre a essere condizione formale, è anche condizione materiale della conoscenza, e quindi il soggetto a creare la realtà, tesi che è la base dell'idealismo fichtiano. Altro chiarimento, questo concetto di individuo creatore della realtà è da intendersi all'interno del campo della logica, e non si tratta di una creazione materiale delle cose. Affermare che l'io-assoluto è anche condizione materiale della conoscenza, implica piuttosto che sono gli uomini a porre il mondo, e senza gli uomini il mondo è come se non esistesse. In altre parole, l'universo, senza una coscienza intelligente che lo invoca, non ci sarebbe. Analizziamo adesso quelle che per Fichte sono le tre proposizioni fondamentali alla base della dottrina della scienza. La prima, l'io pone se stesso, e questa è la tesi. Fichte arriva a questa proposizione partendo dal primo principio della logica classica, cioè il principio di identità, che afferma che A è uguale ad A, legge che la filosofia considerava come base del sapere. Questa legge però presuppone A come dato, senza spiegare da dove esso provenga. Si parla in questo caso di dogmatismo. Come sappiamo, Fichte ha la soluzione a questo problema in quanto afferma che l'esistenza di A dipende dall'io che la pone. E senza l'identità dell'io, cioè io uguale a io, la stessa identità di A, cioè A uguale ad A, non si giustificherebbe. L'io però, per poter affermare la sua identità, deve prima affermare la sua esistenza, ponendo se stesso. Fichte, con questa prima proposizione, supera il dogmatismo, cioè la posizione che assume la natura senza chiedersi il perché essa esista e da che cosa abbia avuto origine. Ricapitolando, la legge di identità afferma che A è uguale ad A. A esiste solo in quanto l'io la pone, quindi prima di A c'è l'io e di conseguenza la legge di identità vale anche per l'io, quindi l'io è uguale all'io. Ma l'io prima di poter essere uguale a se stesso deve essere, e l'unico modo per essere, in quanto l'io è principio primo, è quello di porre se stesso. L'essenza dell'io consiste quindi in un'attività di natura autocosciente, attività che viene all'esistenza, in quanto si autopone il suo pensare e creare. L'io fictiano è quindi l'intuizione intellettuale che Kant riteneva impossibile all'uomo in quanto coincideva con l'intuizione di una mente creatrice. L'io fictiano non coincide con il singolo io empirico, ma è l'io assoluto da cui tutto deriva. L'io è attività autocreatrice e infinita. Punto 2. L'io pone nell'io il non-io, antitesi, quindi quella di prima era la tesi e questa era l'antitesi. Il pensiero non può esistere senza il contenuto del pensiero stesso, quindi una coscienza pensante è tale solo in rapporto a oggetti pensati, che non sono la stessa coscienza pensante ma sono comunque al suo interno. Nella proposizione l'io pone nell'io il non-io, il non-io rappresenta tutto ciò che è opposto all'io ed è diverso da questo. Ad esempio la materia, gli altri corpi, il nostro corpo, sede dell'io pur non essendo l'io. Affinché si attivi la conoscenza occorre sì la presenza di qualcosa di esterno, qualcosa da conoscere, ma tale realtà esterna non può essere assolutamente indipendente dal soggetto. Non si può infatti pensare a un oggetto se non per un soggetto che lo pensa. Ecco dunque che questo principio dell'io che pone in se stesso il non-io serve a ricondurre il non-io al suo autore, a rimuovere la sua estraneità di dato e a dare un senso alla conoscenza umana, la quale senza un riferimento logico all'oggetto diverrebbe vacua e inconsistente. Quindi questa era l'antitesi. Riassumiamo velocemente, quindi la tesi è l'io pone se stesso, l'antitesi è l'io pone nell'io il non-io. Arriviamo al terzo punto che è il seguente, la sintesi, cioè l'io oppone nell'io all'io divisibile un non-io divisibile. Quindi per divisibile si intende molteplice, finito. Questo terzo principio, come abbiamo detto, rappresenta il momento della sintesi. L'io assoluto, infinito e quindi indivisibile, è costretto a porre un io empirico, quindi finito, limitato, quindi divisibile, da contrapporre al non-io che è per definizione divisibile. Mentre il secondo principio, quindi l'antitesi, si limitava a ricondurre il non-io entro l'io, cioè la realtà materiale all'interno dell'autocoscienza dell'individuo, lasciandoli però in uno stato di pura contrapposizione, il terzo principio dà luogo alla loro mediazione. L'io prende coscienza del suo essere non solo opposto al non-io, ma anche limitato da quest'ultimo. Quindi ricapitolando, questi tre principi stabiliscono, numero uno, l'esistenza di un io infinito, cioè un'attività assolutamente libera e creatrice. Punto due, l'esistenza di un io finito, cioè finito in quanto limitato dal non-io, che è un soggetto empirico, cioè l'uomo, come intelligenza o ragione. E infine, punto tre, l'esistenza di un non-io, cioè dell'oggetto, mondo o natura, che si oppone all'io finito ma è ricompreso nell'io infinito dal quale è posto. L'io, per Fichte, risulta quindi finito e infinito allo stesso tempo. Finito perché è limitato dal non-io, infinito perché quest'ultimo, cioè la realtà materiale, esiste solo in relazione all'io e dentro l'io. Molto bene questo primo video su Fichte, termina qui, come sempre vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi, spero che questi video vi siano utili, alla prossima!